Per il rieti calcio continua la ricerca di nuovi giocatori, in particolare una punta che possa fare la differenza. Sembra essere definitivamente sfumato il discorso con Di Paola che dovrebbe andare alla maceratese, mentre altro nome possibile è quello di Leonardo del 93 ex Roma. Assoluta incognita, ha dichiarato Andrea Fedeli, è l'acquisto dell'esterno Francesco Fe del 96 ex Lazio Viterbese Arezzo. Un ragazzo in gamba, ma che al momento non sembra essere sicuro di esserci. L'obiettivo infatti è quello di creare una formazione che attraverso sforzi e sacrifici sappia dare il massimo per puntare sempre alla vittoria. Intanto, continua Fedeli, il nostro team continua gli allenamenti per affrontare il match di domenica contro il Villa Biagio, una squadra che, soprattutto negli ultimi tempi, è cresciuta nel mercato e, cosa importante, avrà il vantaggio del campo. Dunque, la rosa presente sul campo dovrebbe essere la stessa della scorsa partita in terra toscana e si spera anche il risultato. Se da una parte il giudice sportivo non è stato clemente con il tecnico Beoni squalificandolo per un turno, dall'altra la dirigenza mostra un alto gradimento nei confronti del nuovo mister e, a tal proposito, Andrea Fedeli ha parlato di un ottimo rapporto.